Nella scuola elementare a Tavernelle si fa fatica a continuare le attività didattiche dopo la tragica notizia che ha sconvolto anche i colleghi e alunni di Elisa. Veniamo accolti da Alessandra Biagiotti, fiduciaria della scuola primaria e collega ed amica stretta della giovane vittima. Da tempo insegnava nella stessa classe con mansioni differenti. Era la migliore, ci dice, e con la voce spezzata dalla commozione racconta la cara amica scomparsa. Elisa era una collega e anche una nostra amica. Stamattina è stata dura per tutti venire a scuola dopo la tragica fatalità di ieri perché eravamo quasi tutte incredule a questo accaduto. Perché Elisa lascerà un vuoto in tutte noi e anche nei bambini che stamattina molti, soprattutto quelli della classe quinta, hanno dimostrato di essere molto fragili e ricordare insomma con molto affetto, hanno voluto redigere dei piccoli pensieri proprio per la maestra Elisa e c'era tanta commozione anche nei bambini. Elisa lavorava nel Plesso dal 2009. Come ci racconta il dirigente scolastico? Io l'ho conosciuta quattro mesi fa quando ho preso l'incarico qui in questa scuola. La cosa che ho apprezzato tanto di Elisa è stata la sua professionalità, la sua passione per il lavoro, il modo di gestire la classe, il modo di gestire i bambini. Lei faceva anche parte del nucleo interno di valutazione che è un gruppo di lavoro che si riunisce nei pomeriggi per redigere alcuni documenti importanti per la scuola e ha sempre dimostrato una grandissima professionalità. Oltre 40 invece i messaggi sul profilo Facebook di Sonia, l'imprenditrice di Calcinelli, coinvolta insieme a Elisa nella tragedia dell'Epifania. In un post si legge una dedica di un'amica. Ho sempre sospettato che fossi un angelo sulla terra. Nonostante la tua vita non sempre facile, la cattiveria non faceva parte di te. Ti dicevo sempre di non cambiare mai, di non ascoltare nessuno, perché tu eri speciale come pochissime persone al mondo. Abbi cura di te lassù, ti abbraccio forte. Grazie.